Buon pomeriggio anche se direi buon pomeriggio perché qui è l'una a meno 5 mister master maestro o semplicemente o semplicemente David Lynch, è februari 10, 2022 e è domani qui in Naples, è un giorno chiaro, molto e questo significa che per me non è quella giornata veramente, veramente, veramente fredda come in questi giorni, in questo periodo almeno sempre per me non sento il freddo come lo sentono la maggior parte delle persone ma in questo senso invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto praticamente a dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo di vincerlo perché è impossibile ma quantomeno di combatterlo anche se ormai secondo me stiamo andando verso marzo quindi cioè insomma verso sì comunque il periodo lì la primavera quindi poi cambierò la frase sul clima per quanto guarda il video sui pensieri ovviamente lo faccio sempre separato da questo anyway as you just see from the window today we have those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way ovviamente qui altre 3-4 ore e terza volta consecutiva bene così che dire in questi casi said it is so from the mythical window with the dacare de curtei sublime oggi nulla da dire and it's green roller shooter behind me on the top already in the shot and finally from a mythical keyboard yamaha digx 640 ipg ipg 625 ev a great day im all the people who follow the channel and the reports si un saluto veramente a tutti veramente questo sole veramente accecante oggi guardate qua non si vede nulla si so again a great day im all these people and everyone too quindi Grazie.